La doppia mostra, fotografica, pittorica, scultoria, grafica, è strettamente collegata con questa esperienza che trovo importante, che ha una sua dimensione importante nella città di Lugano e nel Ticino, che è il Festival Poestate. Ho aderito subito, con grande entusiasmo, e spero che nei prossimi anni ci sia un ulteriore sviluppo di questa relazione con il Festival, proprio perché l'arte, sin dall'epoca antica, ha avuto una relazione con la poesia. Pensiamo ai madrigali, pensiamo alle miniature, pensiamo a quanto la storia dell'arte abbia illustrato, molto fra virgolette, il rapporto con l'arte. Ma soprattutto pensiamo a Michelangelo Bonarroti, che ha scritto forse le poesie più importanti del Rinascimento, dando voce alla sua scultura, alla sua pittura. Il risultato è stato, ritengo molto positivo, durante la sessione dedicata al rapporto con l'arte. Abbiamo avuto possibilità di creare un rapporto con i partecipanti al Festival, con gli attori del Festival, e abbiamo notato subito, anche come da parte nostra, ci sia stata una simbiosi, anche in questo caso molto positiva, una esperenzialità condivisa. I poeti da sempre sono compagni dei pittori, degli scultori, penso a Moravia in Italia, Carlo Levi per esempio, ma direi per tornare ancora al territorio di Lugano e del Ticino, penso che la figura che domina la scena è Herman Ness, che qui è vissuto, che qui ha scritto i più grandi suoi libri, ma anche ha fatto decine e decine di acquerelli, quindi proprio dimostrando come letteratura e pittura viaggiano sulla stessa relazione, sulla stessa lunghezza d'onda. Questa è una casa dell'arte, in cui i quadri, le sculture, le fotografie si interfacciano, si distribuiscono sulle pareti, negli spazi. Insomma, il visitatore in realtà è come se stesse a casa sua. Ho parlato anche di fotografia, perché la fotografia che qui è diretta da una specificità espositiva, che è la Islandi Gallery, sempre qui, in questa stessa sede, apre ulteriori finestre verso il mondo reale, con una documentazione molto interessante, molto vicina alla cultura del Terraria, attraverso l'obiettivo di Mario Dondero, un grandissimo fotografo che ha vissuto soprattutto a Parigi e nel mondo a contatto con i grandi premi Nobel della letteratura.